Lo sciopero deve essere usato come ultima arma. La CIS non partecipa all'astensione dal lavoro organizzata da CGL Will, ma promuove la manifestazione sabato 25 novembre alle 10 in piazza Santi Apostoli a Roma per incalzare il governo sui temi della piattaforma unitaria che devono essere declinati nella manovra. Attualmente i nostri interlocutori sono governo e Parlamento, cui diciamo come modificare la legge di bilancio e tenendo aperto fino all'ultimo lo spazio negoziale, spiega Mirko Scaccabarozzi, segretario generale della CIS, Monza Brianza Lecco. La CIS ritiene infatti che lo sciopero vada impugnato come ultima arma. Riteniamo un errore imputare ulteriori sacrifici a lavoratori e lavoratrici con salari già falcidiati dall'inflazione, oltre che causare altri disagi ai cittadini. Riteniamo pertanto che sia da evitare il rischio di riversare nella realtà di aziende ed uffici tensioni e conflitti di carattere più schiettamente politico. Secondo noi invece, continua Scaccabarozzi, occorre ricostruire un nuovo patto sociale che ponga al tavolo governo, mondo dell'impresa e del lavoro per il rinnovo dei contratti, rilancio dei salari, una politica fiscale realmente ridistributiva e la rimozione delle rigidità della legge Fornero. La CIS riconosce al governo che nella manovra alcuni provvedimenti rispondano alle richieste avanzate dei sindacati nella piattaforma unitaria, ma evidenzia le ombre che permarrebbero. Una su tutte, spiega il numero uno della CIS, la Monza-Brianza-Lecco, l'esiguo investimento complessivo, solo 24 miliardi e in larga misura in deficit, incapace di attivare manovre anticicliche finalizzate alla ripresa del Paese. Non solo, e rimane aperto tutto il tema delle pensioni, che non ci convince minimamente, dice Scaccabarozzi, con una riduzione di fatto delle pensioni dei lavoratori del pubblico impiego, le ulteriori rigidità su opzione donna e l'assenza totale di misure innovative per i giovani, quale la pensione di garanzia. Sul territorio, sottolinea infine Scaccabarozzi, temiamo l'insufficienza degli strumenti ad oggi in campo contro una povertà crescente, così come un ridotto sostegno alla disabilità e alla non autosufficienza.